Oltre 3.600 veicoli controllati, 108 incidenti rilevati, 37 persone denunciate all'autorità giudiziaria, 113 violazioni accertate per guida senza patente o in stato di ebrezza o per velocità pericolosa. Questi sono alcuni dei risultati dell'attività del 2022 della Polizia Locale dell'Unione Valnore-Valchero, dati che sono stati snocciolati nella giornata del suo patrono San Sebastiano, che è stata celebrata nell'auditorium comunale di Podenzano. Un'attività che è sempre più dedicata alla prevenzione e alla vicinanza ai cittadini. 6.000 ore infatti sono state dedicate alla prevenzione dei furti, oltre 2.600 le ore dedicate ai controlli stradali, senza contare poi i progetti di sicurezza stradale nelle scuole. Un'attività che la Polizia Locale compie con 17 agenti, in un territorio che conta circa 35.000 abitanti. La Polizia Locale opera infatti nei comuni dell'Unione Valnore-Valchero, San Giorgio, Podenzano, Vigolzone, Carpaneto e Gropparello, e da qualche mese anche a Ponte Nure, attraverso una convenzione. In progetto c'è una nuova sede a Vigolzone, ed il raggiungimento dello status di corpo di polizia, che si concretizzerà con l'assunzione di altri agenti appena la normativa lo consentirà. La festa di San Sebastiano è sempre l'occasione per la Polizia Locale e per gli amministratori dell'Unione Valnore-Valchero di premiare persone ed associazioni che nel loro lavoro o nella quotidianità sono ad esempio per professionalità, disponibilità, presenza costante, attenzione alla comunità. I primi ad essere premiati sono stati cavalieri della strada, riconoscimento che ciascun sindaco ha attribuito a uno o più cittadini. Poi le associazioni Protezione Civile Gruppo Vega, Laboratorio Verde e Fare Ambiente, e poi le pubbliche assistenze e Croce Rossa, gli assistenti civici e i coordinatori dei gruppi di controllo di vicinato. I loggi infine del comandante capo Paolo Giovannini ad alcuni dei suoi uomini e donne, per la professionalità e sensibilità con cui hanno lavorato ad alcuni casi.